ecco vedi so vai qua e poi finisci questo giri così oh ciao chi è? ti saluta oh ciao si buon passeggio chi è dico? è un'amica mia e abita qui vicino? no abita lontanissima si e sarà più da un ora che cammina e non torna più a casa? come non torna più a casa? c'è anche una bambina e piccola? piccola c'era un anno e mezzo e la tiene sulla culla? no cammina da parecchio che cammina e da quanto? saranno 4-5 mesi che cammina ben colpito è arrivata eh? nel senso quella cammina da un ora è arrivata lontano lontano si quella da 4-5 mesi che cammina la figlia è arrivata ma no nel senso in cina? ma che in cina? in corea ma che in corea? in australia che ne so io insomma vabbè lasciamo sta è parecchio che cammina sì dai è un problema sì bene se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete like iscrivetevi al canale condividete commentate quello che volete noi siamo sempre qui Nicola a pesare sì ci sono state ciao tutti ciao 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 ciao